A breve pure gli studenti e il personale scolastico delle tre scuole superiori di Favara potranno fare lo screening dei contagi Covid-19 in modalità drive-in. Si spera prima o comunque non troppo dopo il loro rientro in classe. Intanto, qualche giorno fa, mercoledì 20 e giovedì 21 scorsi, ad essere testati erano stati alunni e docenti dei quattro istituti comprensivi del paese. In quell'occasione si registrò una grande affluenza di persone. Furono riscontrati cinque casi sospetti di contagio. L'Asp si sta adesso organizzando per eseguire i tamponi a studenti e personale delle scuole superiori. Dall'azienda sanitaria devono pure raccordarsi con i dirigenti scolastici. L'amministrazione comunale di Favara ha intanto dato la propria disponibilità per l'esecuzione dei nuovi screening in città. Nei prossimi giorni si avranno indicazioni su date e modalità.